Tappa elettorale lucchese per il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni. L'esponente della Lega Nord ha incontrato all'hotel Guinigi i candidati toscani alle elezioni europee Manuel Vescovi ed Elisa Montemagni. Prima dell'incontro Maroni ha anche incontrato la candidata sindaco del centrodestra a Capannori, appoggiata anche dalla Lega, Maria Pia Bertolucci. Nonostante un notevole ridimensionamento a livello locale del partito del Carroccio, Maroni si è detto fiducioso dell'apporto toscano al suo partito alle elezioni europee. Ci aspettiamo grandi risultati perché la battaglia contro questa Europa che non funziona è una battaglia non solo delle regioni in cui la Lega è più forte, Lombardia, Piemonte e Veneto, ma è una battaglia di tutta l'Italia. Stiamo avendo consensi in tutte le regioni e per l'Europa il messaggio che noi diamo è molto forte e molto chiaro. Ridiscutere questa Europa che non funziona, ridiscutere la nostra partecipazione all'euro e trovare una soluzione, la proposta per l'Europa delle regioni e dei popoli e non l'Europa delle banche.